Ha trovato conferme l'allarme lanciato ieri da diverse organizzazioni umanitarie e dagli uffici del governo sulla nuova massiccia ondata migratoria verso le nostre coste. Il gruppo più consistente è 336 migranti, tra i quali 64 donne e un neonato, è stato soccorso a largo di Porto Impedocle da due motovedette della Guardia Costiera ed una della Guardia di Finanza. I migranti hanno dichiarato di essere tutti di nazionalità eritrea. Un secondo sbarco è avvenuto invece sulle coste siracusane, nei pressi della spiaggia di Onnina. Una cinquantina di uomini che hanno dichiarato di essere siriani e pakistani sono stati rintracciati a terra dalla Capitaneria di Porto dopo una segnalazione. Hanno raccontato di avere viaggiato in mare per circa 10 giorni. Soccorso infine i 233 migranti avvistati a bordo di un'imbarcazione in legno in navigazione nel canale di Sicilia sud dell'isola di Lampedusa proveniente dal Nord Africa. Tra loro anche donne e bambini. Accertate le precarie condizioni di galleggiabilità del natante, i naufraghi ai quali sono stati somministrati i generi di conforto e assistenza medica, sono stati imbarcati a bordo del pattugliatore della Marina Militare sulle motovedette della Capitaneria di Porto.